Ho sentito una storia quando ero piccolo. Parlava di un cantastorie, talmente bravo che tutto ciò che raccontava diventava reale. Così il cantastorie si crea un mondo soltanto per sé. Dove il re del castello ha una meravigliosa principessa accanto. E poi un giorno, lui si sveglia e se ne va. Quindi ora che succede? Stanotte, ucciderò un uomo. Quando sei perduto, sei pronto a credere a qualsiasi cosa. Eva Green, Ryan Phillippe, per il ciclo Cult Fantasy, Franklin, venerdì alle 21.20, Rai 4.